Da settimane Repubblica lavora per raccontarvi il ritorno del neofascismo in Italia, per raccontare che cosa stanno facendo i gruppi neofascisti, da Forza Nuova a Casa Pound, agli Skinhead, come si finanziano, come si muovono, che tipo di propaganda stanno facendo, come conquistano il consenso sociale. Stiamo raccontando perché hanno rialzato la testa e perché c'è da preoccuparsi. Insieme a questo, questo giornale ha fatto una battaglia che è quella del cosiddetto ius soli, che significa dare la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia che sono figli di genitori immigrati. Queste sono le colpe di Repubblica e così questo pomeriggio un gruppo di persone di Forza Nuova, una dozzina di persone a volto coperto, erano mascherati, sono venuti sotto il giornale, hanno lanciato i loro proclami, hanno lanciato minacce, oltre che tirare dei fumogini, hanno promesso guerra. Esattamente questo perché hanno fatto poi un comunicato abbastanza delirante su Facebook, in cui dicono che da questo momento è incominciata una guerra, un boicottaggio contro Repubblica, che è colpevole appunto di genocidio verso il popolo italiano. Questo perché appunto è favorevole alla legge sullo ius soli. Sappiamo di avergli dato fastidio, sappiamo che le inchieste soprattutto sui finanziamenti, sugli affari, su come sia Forza Nuova che Casa Pound sono cresciute in questi anni, hanno dato fastidio. Ma non siamo tanto preoccupati per Repubblica, quanto siamo preoccupati per un clima che c'è nel Paese. Siamo preoccupati per quello che abbiamo visto a Como, siamo preoccupati per quello che capita nelle periferie, perché oggi questo risorgente fascismo si sente legittimato ad alzare la testa, si sente legittimato a minacciare, si sente legittimato a colpire chi fa battaglie per i diritti. E in questo c'è un clima di intimidazione, di violenza, lo abbiamo visto oggi con i nostri occhi. E questi sono i metodi tipici di chi non ha nessuna voglia di confrontarsi e di chi non accetta le regole basilari del confronto democratico. Questo è quello che è accaduto oggi a Repubblica. Bisogna tenere alta l'allerta. Per troppo tempo in Italia si...